Eccoci qua, siamo pronti con l'esplorazione, andiamo a vedere E' molto buio, purtroppo non ho un'altra torcia Prosegue, mi sembra anche parecchio Questa qua è l'una al buio Allora, è uno scavo che la parete a parete sarà 4 metri Altro, alto, almeno altri 4 Direi che è uno scavo molto molto eccessivo Guardate qua, gira E lì è crollata Cambiamo delle scarpe Vedete, lì c'è un crollo proprio Quindi questo scavo proseguiva Veramente interessante sta cosa Non l'avevo mai vista prima L'ho trovata per caso seguendo una trincea Però per essere anche un qualcosa, un riparo militare eccessivo E praticamente dall'entrata qua ci saranno almeno 40 metri E poi guardate che è grosso E qua non c'è un'abitazione vicino Quindi non è un qualcosa che potesse essere usato anche per civili Qua vedete c'è stato un crollo dal soffitto Vediamo l'una Qui la luna la tengo con un guinzaglio perché deve ancora far pratica al buio E dato che c'è lo zaino che pesa molto E c'è parecchi detriti Non voglio neanche trovarmi a disagio Quindi preferisco verla sotto controllo Perché lei tende comunque a fare di testa sua Allora come vedete è molto molto grosso Quindi una bella scoperta, una bella esplorazione anche questa Qua la cosa interessante Era chiuso Guardate un po' Era chiuso Con questi muri Con queste pizze O è stato chiuso perché Non si voleva far capire dove era Oppure era Utilizzato a modo di riparo Comunque E' uno scavo molto molto vecchio Moltissimo Va bene Adesso usciamo di qua Sali Luna vai Vai Hopp Vai Luna Hopp Vai vai Viamo Vai Brava Viamo Vai vai Ok Questa esplorazione è stata molto interessante Aspetta Luna ferma